Noi siamo pronte, Gildarella sta bevendo, c'è un'arzura qua, ve Gildarella con sto caldo, allora vai, ciao amori miei, ecco tanto per cominciare, bella mia, allora oggi facciamo una ricettina, guardate, di una semplicità unica, c'avevo un po' di formaggio misto, che se no rimane in frigorifero, e delle fettine di prosciutto cotto, allora, semplice semplice, guardate, il semplice di questa non esiste, ecco qua, allora mettiamo, vedi famo misto va, dai, ecco qua, ne mettiamo un'altra pure di questa va, ma sii, Ah, sono due tipi di formaggio, ma tanto a fine è uguale, mi sa, no? Ecco, appunto, ecco fatto, allora, poi, dopo che avete messo sto formaggio, arrotolate così, guardate, ecco, questi ragazzi sono buonissimi, eh, Allora, io adesso appoggio qui, vedete, ecco qua, e seguidiamo con un altro, ecco qua, io faccio, vedete, un po' misto, misto, eh, ecco voi, più ce ne mettete, questi sono favolosi, mamma mia, ecco fatto, un voltino di prosciutto, che vuoi dica fa? Allora, più ce ne mettete, dei fornaggi, è meglio, eh, vedete? Ah, oggi è tutta un arcobaleno, quanto mi piace a me questa parananza, Gildare, ti sta proprio bene, Un arcobaleno mi piace, vedete? Mamma mia, raga, ecco, vai, vai, arrotola, Gildare, vai, guardate, sfilatini, Allora, facciamo l'ovetto, adesso qui c'è l'ovetto, spero che basta, se non basta ne mettiamo un altro, però penso che dovrebbe abbastare, allora, mettiamo un po' di pan grattato qua, va, ecco fatto, Questo è un piattino che piace tanto ai ragazzi, eh, vedete? Ecco qua, non solo ai ragazzi, anche ai ragazzetti e ai ragazzoni, perché buonissimi sono, guarda qua, Mamma mia, tiè, vai, Gildare, allora, adesso, lo passiamo nell'uovo, bene, bene, vedete? De qua, de qua, poi se serve lo mettiamo un altro uovo, eh, ecco fatto, E adesso, passiamo nel pan grattato, bene, bene, ecco fatto, ecco qua, vedete? Ecco, Mo gli diamo un'altra passatina, va, perciò mi sa che non ho detto, ah, quindi hai fatto uovo, pan grattato, uovo, pan grattato, eh? E certo, così si regge meglio la natura, ecco fatto, è più spessa, no? Sostanzioso, te mangi uno di questo, stai a posto, Orca miseria, allora, ho messo un altro uovo, eccolo qua, fanno asciugare le mani, ecco fatto, ecco la girdarella, ecco qua, Ecco, né sale, niente, eh, solo pan grattato e uovo, voilà, ecco fatto, vedete? Ecco qua, vedete, quando i figli vostri vi portano amichetti a casa, sapete che fai, e tu patatine fritte, e questi stanno a posto, piace a tutti, eh? Eccoli qua, pronti, e adesso li vado a friggere, va bene? Va bene, ti è, ci darei che spettacolo! Vai, namma friggere, ecco qua, adesso li friggiamo, eccoli qua, vedete? E che te li ti è? Adesso loro se cociono, mamma mia, buoni! Eccoli, eccoli, belli, pronti, scolati, ti è, guardate che belli, che fai, e chi ne so, che vuoi fa? Faccio sto taglio, guarda, ti è, guardate che belli, questi sono buoni, vedete? Come so, so buoni, Gildare? E che ve lo dico a fa, guardate la faccetta, ti è, pure che so bollenti! Beh, questi so buoni, bollenti, comunque, poi guardate che bella panatura, guardate un po' come è rimasta bella, intatta, ti è, mamma mia! So bistecche, so buoni, volevo dire, guardate che meraviglia, eh, guardate che roba, guardate un po', e come dico io? Piatto ricco? Mici fico! Mici fico! Ti è! A dieta, ancora parliamo di dieta! Ho capito, Gildare, eh, a dieta, a dieta, a dieta, pescetto lesso, un saladino, e poi dopo, ti è, meccatesti in bortini! Dimmi te, come fai a resiste? Io non so, dimmi, come fai? Bonio! Eh? Poi tutte le volte no, però dai, non si può fare l'assaggio, non si può fare l'assaggio, ma con questo profumo, sotto al naso, no? Cioè, non potete immaginare quanto sono buoni! Ecco, poi guarda, cioè, te vedi tutto sto ben del Dio qua, no? Dimmi! Guardate che belli! Guardate! Sta venire fame, eh! Lo so! Pure a me! Amore miei, io adesso vi mando tanti baci belli, mi raccomando, fatela, perché questa è proprio semplice, semplice! Ci mettete neanche cinque minuti per friggere, perciò... Am! E che tu dici a fa? Vai! Una sinfonia, vero, Gildare? Allora, amore miei, tanti baci belli, sempre dal cuore, e mi raccomando, fatela, perché sono buonissimi, veramente, semplici e buoni, piacciono a tutti! Una bella insalatina vicino, due patatine fritte, vuotevo dire... E che vuoi dire che fai? Anche un po' di insalatina, dai! Va bene, amori? Ciao! Un bacio grande a tutti, sempre dal cuore, e dalla cucina di Gilda! Certo! Am! No! No! Ancora, sono magnato! Ciao, amori! Ciao! Baci grandi a tutti!